Cari amici, da tre giorni seguiamo Gesù nella sua passione morte e sepoltura e ora siamo posti davanti all'indicibile, all'umanamente impossibile, a un evento che appare incredibile. Un evento davanti al quale ciascuno di noi questa notte sente il cuore oscillare tra adesione al racconto ascoltato e dubbio, tra fede e incredulità. Ma questa nostra condizione non è diversa da quella dei discepoli e delle discepole in quel terzo giorno dopo la morte di Gesù. Perché la morte è la morte, è la fine concreta della vita, delle relazioni, degli sguardi, degli affetti, dell'amore. Quando uno muore, muore intieramente e tutto muore con lui. Il Vangelo secondo Marco, più degli altri, ci mette davanti la morte di Gesù come una morte fallimentare, enigma, che anche per Gesù è diventato faticosamente mistero. La morte di Gesù è apparsa la smentita di tutto quello che lui aveva detto e fatto. Predicava la venuta del regno di Dio e ora dov'era quel regno? Aveva guarito e liberato alcune persone, ma ora malati, prigionieri, disgraziati, continuavano ad esserlo come prima. Aveva amato degli uomini e delle donne, li aveva fatti comunità e ora se ne erano tutti fuggiti e quella comunità si era dimostrata una baracca caduta a pezzi. Il giorno successivo al sabato è stato per quegli uomini e per quelle donne una poria, un vuoto, uno spazio in cui non si trovavano più i fili del senso e del significato di ciò che avevano vissuto. E per alcuni di loro, Pietro, il discepolo amato, Maria di Magdala, era avvenuta la fine anche di una storia d'amore, una storia che era sembrata amore senza fine. Quel sabato che noi chiamiamo sabato santo deve essere stato in realtà un inferno, nel quale la potenza del male, del demonio e del diavolo sembrava regnare ancora, anzi sembrava esser stata capace di spegnere ogni speranza. È stato un sabato di silenzio estremo, nulla da dire, nulla da commentare. Quell'evento della morte e della sepoltura di Gesù faceva terminare una vita? No. La vita autentica che avevano vissuto tra fatiche, contraddizioni e inadempienze, tutte annegate nell'amore vissuto con quell'uomo con Gesù, bastava se stessa. Bastava infatti guardare Gesù per stare in piedi e dire sì al duro mestiere di vivere. Ecco perché quando quel sabato è passato, Maria di Maddala e le altre donne discepole prepararono oli, balsamo, profumi per ungere il cadavere di Gesù deposto nella tomba la sera del venerdì. Maria di Maddala aveva accompagnato il corpo morto di Gesù dalla croce alla tomba e aveva osservato bene quell'antro, così ci testimonia Marco. Ora al mattino presto le donne discepole tornano alla tomba quando il sole si sta alzando. Quale sole si è alzato? Il sole che era spuntato dall'alto e aveva visitato il suo popolo? Il sole di giustizia? È questo sole che si è alzato o semplicemente il sole che dà luce al giorno? I pensieri di queste donne vanno alla pietra, la grande pietra messa come porta, come custodia all'antro, ma ormai vicino alla tomba vedono la pietra già rotolata via. La tomba dunque è aperta. Come? Da chi? Ed ecco le donne videro un giovane seduto alla destra, vestito d'una veste bianca e furono colte da stupori. Quelle donne pensavano di vedere i cadaveri di Gesù e invece, secondo Marco, vedono un giovane. pensavano di vedere un lenzuolo che avvolgeva il morto e invece vedono un giovane, un vivente, vestito di bianco. Pensavano di vedere un morto disteso a terra e vedono un giovane seduto alla destra. Alla destra di chi? Potremmo noi chiederci. Qualcuno ha posto questo giovane alla sua destra, dicendogli, siedi alla mia destra. Le donne sono sorprese. Alla lettera sono colte da stupore. Marco conosce un ricco vocabolario per parlare della paura e dello spavento. In questi pochi versetti usa almeno quattro termini per descriverlo. Qui registra spavento, stupore. E subito dopo quel giovane parla alle donne ripetendo lo stesso verbo. Non siate spaventate, stupite. Poi continua, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso? È risorto, non è qui. Ecco la voce dell'interprete apparso. La voce di colui che legge ciò che le donne vedono. È una voce che viene da Dio. È una voce che è quella del Signore seduto alla destra di Dio. È la voce di chi ormai è stato tolto. È un'espressione di Marco. Come in un'ascensione verso il cielo. Perché è stato tolto dalla mano di Dio che l'ha preso con sé. La voce invita innanzitutto a non spaventarsi, a non avere paura. Ho già detto qualche parola sulla paura in queste omelie del Santo Tribuo. Noi abbiamo paura. Anzi, siamo tentati dalla paura. Infatti la maggior parte delle paure ce le inventiamo. Nascono dalla nostra immaginazione. Si nutrono di noi stessi. È significativo che il primo nostro sentimento testimoniato e confessato dalla Bibbia nell'imprincipio sia la paura di Dio. Le prime parole che dicono i primi uomini rappresentati in Adamo ed Eva alla domanda di Dio «Umano dove sei?» rispondono «Abbiamo ascoltato il tuo passo e abbiamo avuto paura». Sono le prime parole dette dall'umanità. «Abbiamo ascoltato il tuo passo, Dio, e abbiamo avuto paura». Paura di Dio. E pensate quanti sforzi per predicare un Dio che incutesse paura. Quante azioni anche da parte della Chiesa e dei Suoi Ministri, soprattutto, per imporre un Dio che facesse paura agli uomini e alle donne. Ma vi è poi la paura che noi abbiamo gli uni degli altri a cominciare dalla vita familiare nella quale appaiono, nascono e poi crescono delle paure innestandosi per sempre. Qualche volta motivate, la maggior parte delle volte create da noi stessi per giudicare le nostre vigliaccherie, le nostre incapacità ad essere responsabili e a rispondere all'amore. Non dimentichiamolo. La paura è sempre un sentimento contro la responsabilità e nasce dalla mancanza dell'esercizio della coscienza, dalla mancanza di vita interiore. E così paura della vita, paura del futuro, paura della terra. Più volte ho citato il passo della lettera agli ebrei, purtroppo un passo quasi mai predicato nella Chiesa, in cui l'autore della lettera dice che è per paura della morte che noi uomini e donne siamo alienati, alienati, soggetti a schiavitù per tutta la vita e a causa di questa schiavitù, che è la schiavitù del male, siamo indotti al male, al peccato. E sovente queste paure portano all'arroganza che cerca solo di nasconderle e l'altro polo della tentazione per noi uomini. Ecco perché la voce dell'interprete della tomba vuota dice alle donne non abbiate paura. È la condizione necessaria per vivere, non aver paura. Per vivere in mezzo agli uomini, per vivere con gli altri discepoli e discepole, per vivere la comunità e vivere la Chiesa. E solo così si può vivere insieme per credere insieme e sperare insieme. Poter credere l'indicibile, il crocifisso nella vergogna e nell'infammia, è vivente alla destra di Dio, è stato rialzato dalla morte. Ne dà testimonianza il luogo della deposizione che ormai è diventato un non luogo. proprio Maria di Magdala che il venerdì sera stava a guardare dove Gesù veniva deposto, ora vede il vuoto. Come ci dice l'icona sul lambone, questa icona così contemporanea ma così vera per noi. È venuta l'ora in cui lo sposo è stato tolto, come aveva detto Gesù. e Maria di Magdala ne ha certamente una coscienza più forte rispetto a tutte le altre donne e rispetto ai discepoli stessi. È venuta l'ora, è venuta l'ora per Maria e per le altre donne di andare dai discepoli specialmente da Pietro dice il Vangelo di Marco per dire loro che Gesù li precede in Galilea la lo vedranno tutti discepole e discepole come Gesù aveva promesso. Là ci sarà il raduno di tutti quelli che hanno avuto paura la sera dell'arresto e hanno abbandonato Gesù e sono fuggiti. Là ci sarà anche Pietro che ha rinnegato ma ha saputo piangere amaramente il suo peccato. a tutti è fatto l'invito semplicemente di stare dietro a Gesù tutti devono seguirlo perché lui cammina davanti apre la strada basta stargli dietro fino alla croce ma andando con lui fino alla croce si va fino alla destra del Padre. Ma ecco la conclusione del Vangelo secondo Marco un finale talmente deludente l'avete sentito che in seguito si è pensato di aggiungervi almeno tre finali diverse in tre diversi manoscritti. Ma in realtà il Vangelo finiva così come l'abbiamo ascoltato. Le donne uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano tremanti e fuori di sé e non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Le due ultime parole del Vangelo di Marco sono efobunto ga avevano paura paura tremore estasi stupore è difficile spiegare questo finale dobbiamo constatare la paura e possiamo noi dire poco ma questo versetto è più per noi che per le donne discepole è per noi che abbiamo paura della resurrezione di Gesù è per noi che ne siamo stupiti è per noi che abbiamo timore ma abbiamo il santo timore di Dio nell'annunciarla o semplicemente la paura perché abbiamo paura del mondo paura degli altri certo se abbiamo questo timore non cadiamo nell'arroganza di chi supplisce la propria debolezza di fede gridando e urlando la resurrezione di Gesù pensiamo a noi pensiamo alla nostra chiesa c'è chi ha talmente paura da non dirsi ciò che è un discepolo di Gesù e c'è chi è arrogante e vorrebbe imporre agli altri una fede che lui in realtà non porta ma ci sono anche i martiri li abbiamo ricordati e li teniamo presente queste centinaia di cristiani oggi che senza paura e senza arroganza si lasciano sgozzare come agnelli semplicemente dicendo come ultima parola Gesù interroghiamoci sulla nostra fede nella resurrezione di Gesù sulle nostre paure e sulle nostre